Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Oggi EASA ha pubblicato una linea guida che finalmente chiarisce alcuni punti che fino ad oggi sono stati poco chiari, in particolare per le open category, quando dobbiamo ad esempio attraversare e sorvolare strade. È possibile sorvolare strade e autostrade con un drone open category? E cosa significa volare a vista VLOS? Che distanza massima dobbiamo mantenere per dire con certezza che stiamo rispettando il regolamento per quanto riguarda il pilotaggio in VLOS, ovvero il pilotaggio a vista? A questi interrogativi ha risposto EASA pubblicando delle nuove linee guida per operazioni OS nella categoria aperta e specifica. In questo video vedremo assieme cosa dice EASA per quanto riguarda le open category, mentre in un prossimo video affronteremo l'argomento specific sempre per quanto riguarda queste nuove indicazioni delle linee guida. Il documento è stato emesso il 31 gennaio ma è stato pubblicato oggi 27 febbraio. Andiamo a vedere cosa dice, l'introduzione in sostanza dice che dal 2021 quando sono diventati applicabili i regolamenti 945 e 947 l'Europa è diventata una delle prime regioni al mondo a regolamentare le operazioni dei droni. E quindi sono state sviluppate queste regole che oggi stiamo seguendo in tutti i paesi EASA, Italia compresa. Abbiamo poi l'indice, vedete sorvolo di veicoli in movimento nella categoria aperta, introduzione sul rischio di veicoli in movimento eccessivo. Questa è un documento tradotto, traduzione di Google Translate, l'originale è in inglese. Per agevolare il video l'ho fatto tradurre automaticamente. Vedete, buone pratiche per il sorvolo di autostrade, buone pratiche per il sorvolo di altre strade, buone pratiche per il sorvolo di linee ferroviarie. La parte B riguarda la categoria specifica che vedremo in un prossimo video per non appesantire troppo questo video. Allora, intanto questa linea guida inizia spiegando come si determina la distanza del volo a vista. C'è una formula che chi ha fatto i corsi specifici conosce bene per calcolare appunto quando, a che distanza massima possiamo pilotare un determinato drone per affermare che lo stiamo pilotando a vista. Come possiamo leggere, la distanza V loss è influenzata da una serie di fattori quali la visibilità, quindi l'area operativa e le condizioni meteorologiche dovrebbero consentire di mantenere un contatto visivo senza assistenza con il drone e di essere in grado di rilevare la presenza di altri aeromobili nel volume in cui opera il drone. La visibilità minima di almeno 5 chilometri. Poi c'è la dimensione del drone, le caratteristiche del drone, come il colore, che è importante, quindi in relazione a quanto è diverso dal colore di fondo nell'ambiente in cui stiamo volando, ad esempio se il cielo è azzurro piuttosto che nuvoloso, quindi grigio bianco e via dicendo, e l'eventuale luminosità delle luci di cui è dotato. Poi spiega che quando si pianifica un'operazione V loss, la distanza V loss dovrebbe essere misurata come la distanza in linea d'aria tra il pilota remoto e il drone. Esistono diversi metodi e formule e quella più usata è la seguente. Quindi questi due parametri sono la distanza massima al quale il pilota è in grado di rilevare la posizione e l'orientamento del drone in base alle sue dimensioni. Questo parametro, questa distanza è nominata alos e la distanza fino alla quale altri aeromobili possono essere rilevati visivamente per avere il tempo sufficiente di manovrare il drone in modo da evitare questi aeromobili. In sostanza la capacità visiva del pilota di individuare altri aeromobili con equipaggio per poi effettuare le manovre evasive per evitare di mettere in pericolo questi aeromobili. Questo parametro, questa distanza è chiamata D loss. Quindi si calcola l'alos e per calcolare alos in metri, come leggiamo c'è un numero fisso 327 per le dimensioni in metri del drone. Poi spiega come calcolare il D loss. Il D loss che abbiamo detto è la capacità di rilevare altri aeromobili. Si calcola con il numero fisso 0,3 per gv dove gv è la visibilità al suolo, il cui valore minimo deve essere almeno di 5 chilometri e dipende dalle condizioni dell'area operativa. In sostanza la distanza V loss è il valore più piccolo tra alos e di loss. E ora passiamo al sorvolo delle strade e autostrade. Qua c'è una tabella che ha preparato EASA che si riferisce alla disposizione OS Open 060.1c, quindi è una linea guida di questa disposizione che non specifica il transito, il sorvolo di autostrade o strade e per questo motivo EASA ha pubblicato questa linea guida e quindi possiamo leggere che se noi usiamo un drone con le regole A1, quindi droni C1 e C0 e autocostruiti inferiore a 250 grammi, possiamo attraversare l'autostrada se necessario, quindi non sorvolarla linearmente ma tagliarla, quindi incrociarla attraversandola di lato. Quindi l'attraversamento è consentito se ritenuto necessario con un drone della categoria A1 ma come leggiamo anche della categoria A2, quindi un C2 e per entrambe le sottocategorie A1, A2 non dobbiamo restare in bilico intende restare in hovering, quindi non dobbiamo stare in hovering sull'autostrada e non dobbiamo effettuare nessun volo prolungato sopra o lungo l'infrastruttura, quindi non dobbiamo sorvolarla continuamente lungo la sua direzione. Le condizioni sono che dobbiamo attraversarla se necessario ad un'altezza minima di 20 metri, dobbiamo mantenere il volo a vista del drone e non dobbiamo causare nessuna distrazione ai conducenti delle auto, dei veicoli, quindi per evitare che la distrazione crei un incidente. Questo per quanto riguarda la categoria A1. Per la categoria A2 ci sono ulteriori condizioni e cioè possiamo con un drone in categoria A2 attraversare l'autostrada soltanto se non sono presenti veicoli. L'altezza minima di sorvolo è sempre 20 metri di attraversamento, dobbiamo mantenere il volo a vista del drone, non dobbiamo causare nessuna distrazione. Per quanto riguarda la categoria A3 non possiamo sorvolare autostrade, non possiamo neppure attraversare in sorvolo autostrade, vedete non applicabile, non deve essere condotta alcuna operazione. Leggiamo qua sotto la nota che per le operazioni in prossimità dell'autostrade dobbiamo utilizzare la regola 1-1, quindi se vogliamo a 50 metri di altezza dobbiamo mantenerci ad almeno 50 metri di distanza dall'autostrada a meno che non rientriamo nei casi che abbiamo visto prima, quindi in categoria A1 e intendiamo attraversare l'autostrada perché lo riteniamo necessario. Poi vediamo sotto che c'è il transito su altre strade, quindi le strade diverse dalle autostrade, qua ci sono regole comuni un po' a tutte e tre le categorie, è consentito l'attraversamento, non possiamo però stare in hovering sulle strade, non possiamo sorvolarle in modo prolungato lungo la loro direzione, anche qua per le altre strade non devono essere presenti i veicoli in movimento, l'altezza minima deve essere di 20 metri, dobbiamo mantenere sempre una visuale libera del drone, dobbiamo utilizzare una traiettoria che riduca al minimo i tempi volando sopra la strada, quindi vedete nessun volo sprolungato, voli brevi sono permessi, però dobbiamo ridurre al minimo i tempi. Qua vediamo ulteriori spiegazioni, spiega quali sono i pericoli, ad esempio i pericoli diretti che sono generati dallo schianto di un drone contro il tetto e il parabrezza di un veicolo in movimento e poi ci sono i pericoli indiretti generati a seguito dell'incidente di un drone, ad esempio incidenti automobilistici che si verificano in autostrada trafficata a seguito di una stazzata improvvisa di un automobilista nel tentativo di evitare l'impatto con un drone o con i suoi rottami. Come leggiamo qua sotto, lo scenario più rischioso è rappresentato dalle operazioni su autostrade e strade trafficate, per questo motivo sono necessarie alcune considerazioni e mitigazioni aggiuntive. Le operazioni su ferrovia sono generalmente meno critiche, ma meritano comunque alcune considerazioni e mitigazioni. E poi ci spiega che gli stati membri possono istituire delle zone geografiche per evitare i rischi del sorvolo droni di veicoli in movimento, ad esempio introducendo zone geografiche con limitazioni o condizioni specifiche su strade e ferrovie. Tuttavia si prevede che i piloti e gli operatori OS traranno vantaggio dalla disponibilità di queste linee guide poiché aumenteranno la loro consapevolezza sui possibili rischi fornendo anche migliori pratiche. Poi viene spiegato che quando esiste una zona geografica ovviamente le condizioni operative istituite dalla zona geografica valgono di più di quanto scritto qua, quindi conta ciò che è scritto nella zona geografica, contano le limitazioni della zona geografica. Qua viene spiegato in modo più dettagliato ciò che abbiamo visto nella tabella precedente, ad esempio sorvolo delle autostrade, i voli stazionari e prolungati sopra o lungo le autostrade pongono i rischi maggiori per le persone non coinvolte, pertanto devono essere sempre evitati. L'attraversamento delle autostrade in categoria A3 deve essere sempre evitato in A1 e in A2, se le esigenze operative ci obbligano ad attraversare l'autostrada, è concesso a patto che sia mantenuto all'altezza minima di almeno 20 metri sopra l'autostrada, il pilota sia posizionato in un luogo che consenta di mantenere il V-Loss con il drone e dovrebbe anche essere in grado di tenere d'occhio il traffico sull'autostrada. Il pilota remoto deve minimizzare il rischio di distrazione per i conducenti dei veicoli, quindi il volo del drone deve essere effettuato in modo che non distragga chi guida i veicoli e soltanto in A2 durante l'attraversamento dell'autostrada non deve essere presente alcun veicolo in movimento, quindi se noi usiamo un drone A2 e intendiamo attraversare un'autostrada, dobbiamo prima accertarci che non stia passando nessuno, mentre in A1 dobbiamo fare in modo di non distrarre chi passa lungo l'autostrada. Le operazioni in prossimità dell'autostrada della categoria aperta, non direttamente sopra l'autostrada, potrebbero essere condotte a condizione che l'OS sia tenuta a distanza di sicurezza da S, ad esempio rispettando la regola 1-1, quindi possiamo volare di lato lungo l'autostrada ma non sopra, mantenendo una distanza pari all'altezza del drone. Poi come possiamo leggere, una volta che questa linea guida sarà trasferita nel quadro normativo, quindi queste sono linee guida, sono indicazioni che non sono obbligatorie perché non fanno parte del regolamento ma appunto sono linee guida che però è previsto che facciano parte del quadro normativo, quindi quando diventeranno regolamento ci sarà anche una classificazione più precisa di strade e autostrade, se è ottenuto opportuno. Qua leggiamo che nel caso in cui l'autostrada sia già coperta dalla zona geografica, i divieti e le condizioni o le autorizzazioni al volo previste per la zona geografica hanno la precedenza, l'abbiamo detto prima. Per quanto invece riguarda il sorvolo di autostrade, sempre in categoria aperta, bisogna ridurre potenziali rischi per i terzi, il pilota deve evitare di sorvolare qualsiasi strada ad alta densità di traffico quando non vi è necessità operativa. Motociclette, biciclette o altri veicoli cui occupanti non sono riparati devono essere considerati persone non coinvolte che potrebbero essere potenzialmente interessate dall'operazione OS e pertanto si applicano le relative limitazioni. Cosa significa? Significa che queste persone sono appunto non informate, quindi è vettato il sorvolo ad esempio in C2, perché il C2 vieta il sorvolo le persone non informate. Durante l'utilizzo in prossimità di strade il potenziale rischio per terzi dovrebbe essere altrettanto ridotto. Esempi di buone pratiche sono non è consentito volare lungo la strada in presenza di veicoli in movimento e dobbiamo attraversare la strada soltanto nelle seguenti condizioni. Ad un'altezza minima di almeno 20 metri e quando non sono presenti i veicoli utilizzando una traiettoria che riduca al minimo il tempo di volo sopra la strada e dobbiamo mantenere a vista il drone e la strada. Poi quando si opera in prossimità di una strada mantenere il drone a distanza di sicurezza dalla strada rispettando la regola 1.1 ridurre al minimo possibile il rischio di distrazione dei pali conducenti. L'abbiamo già visto prima e anche qua se c'è una zona geografica che protegge la strada dobbiamo rispettare i limiti della zona geografica. E qua arriviamo alla parte della categoria specifica che vedremo in un altro video. Bene queste sono le informazioni essenziali per quanto riguarda la conduzione di un drone in vicinanza e sopra le strade in open categorie e abbiamo visto anche cosa significa pilotare un drone in V-Loss. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti un video veloce per comunicare questa novità vi lascio il link in descrizione video sul pdf di queste nuove linee guida che ripeto e ASA stessa dice che non sono vincolanti dal punto di vista normativo ma che probabilmente diventeranno delle regole appunto inserite nella normativa. E quindi ci sono queste buone pratiche da seguire in sostanza per certe categorie è consentito attraversare la strada e l'autostrada se necessario seguendo queste indicazioni. Grazie a tutti e buon proseguimento iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News. Ciao a tutti